dimmi dimmi le reazioni degli alcani le reazioni degli alcani sono sostituzioni radicaliche e si dividono in combustione e Elena io non me lo ricordo c'è due volte do questo cavolo esame ce l'ho domani sono disperata proprio con chi ce l'hai l'esame? con la Santini chi? con Silvia Santini e che cavolo speriamo sia in buona ciao Silvia Marion lascialo a casa domani il motorino l'esame ci vuole un autobus? no ti accompagno io ok ciao babbo come ciao mi dai anche un bacino? babbo abbi pazienza ma sono nervosa ci vediamo dopo andrà tutto benissimo un'altra volta ciao dunque il boro il problema è quando sballa i valori dell'acqua signorina avremmo deciso che forse lei potrebbe tornare per la prossima sessione che abbiamo adesso? venturini venturini buongiorno 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 allora mi può parlare delle reazioni chimiche degli alcani? gli alcani fanno parte della famiglia degli idrocarburi le reazioni chimiche che si possono avere sono sono la combustione scusate un attimo ingegnere carlo venturini desidera parlare scusate un attimo allora signorina non mi aveva detto che è la figlia dell'ingegner venturini? sì è mio padre siamo molto amici sai io e suo padre comunque ritornando alla domanda di prima gli alcani no 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 lasciamo perdere la domanda di prima abbiamo degli argomenti molto più interessanti da trattare questo è suo vero? sì è mio ma anche questa è mia adesso sono io a dire no non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è